e Martinelli, Lucia su Black Sissi, l'ultima a partire di questa categoria ma Freddy Silvia è una ragazza che proviene dalla squadata Rencio quindi di Ghilardino monta questa splendida puro sangue araba guardate l'eleganza di questa cavalla, brava anche questa mazzone adesso andrà a aprire il trepassare delle fotoselle e andrà a iniziare il suo percorso intanto partita la gara per Silvia velocissima il primo bidone buona anche il secondo, ci mette tanta grinta adesso deve andare a virare, ottimo, la chiusura del suo barrel è bene anche la back oh, yeah la sala dello sguardo ok è bellissima oh, non ce l'ha portare via non ce l'ha portare via che si serve ancora non predeside di andare a recuperare la scala la cancella un corda piano adesso gli si è messa male la corda, la deve scavalcare, brava, con grande maestria applausi perché si è messo a cavato di funiglio dal cilindro, brava Silvia Manfredi con grande maestria e capacità, ragazzi sono svelti questi ragazzi non si scoraggiano per così poco quindi, brava la chiusura ha preso il bicchettino adesso, ha buttato più la barrile, deve cercare di cale il mare l'ervenza di questa puro sangue araba ebbene anche il side pass, ottimo, Silvia Manfredi su Missoraia de Bull ultimo ostacolo per lei ragazzi non è facile vi ricordo che questi cavalli non hanno visto mai gli ostacoli che ci sono all'interno del quadrato quindi per lei è tutto nuovo guardate la paura di questo cavallo di montare sopra questa passerella vi ricordo che i cavalli sono claustrofobici quindi non è brava con grande maestria va a chiudere la sua prova Manfredi Silvia 156,76 brava, brava Manfredi Silvia scodata a range, la penultima a mazzine di questa categoria il tempo è buono 156,76 da sommare se non erro a 5 secondi di giornalità va a finire a 161,76 adesso è dentro l'ultima, Martinelli Lucia su Black Sissi grazie a tutti